E' lunedì 10 ottobre, buongiorno a tutti voi, ben ritrovati, è il momento di guardare insieme le prime pagine dei giornali. Si parla naturalmente della guerra in Ucraina, lo sapete, l'ultimo bombardamento sulla città di Zaporizia, quella città che dista circa 50-60 km dalla centrale nucleare, quella più importante d'Europa. Lo sapete, il timore della comunità internazionale che qualche bomba possa colpire proprio quei reattori. Ci sono stati numerose vittime civili, purtroppo sono sempre loro a pagare il prezzo più alto della guerra. E poi si discute ancora dell'attacco al ponte, il cosiddetto ponte di Putin o ponte di Crimea, perché collega proprio la Crimea con la Russia. Ci sono nuovi particolari per cercare di ricostruire proprio la dinamica di quanto è avvenuto. Sembra che ci sia la responsabilità dei servizi segreti ucraini. Il presidente Putin, che oggi presiderà proprio un consiglio di sicurezza della federazione russa per fare il punto sulla situazione, ha parlato di un atto di terrorismo, ma questo che vuol dire non è soltanto una condanna. Si teme che questo possa provocare una reazione da parte di Mosca con nuovi attacchi in Ucraina. E questo potete immaginare quanto possa preoccuparci tutti quanti. E poi naturalmente si parla di politica, è una settimana importante questa per la nuova legislatura, per i nuovi deputati che assumono proprio i nuovi, come dire, accrediti proprio di fatto nel loro status. Vi ricordo che è un Parlamento ridotto proprio per l'approvazione della riduzione del numero dei parlamentari. E poi andremo a vedere più nel dettaglio cosa succede, perché Giorgia Meloni, che viene considerata la premier in pector, anche se bisogna aspettare che il capo dello Stato, Sergio Mattarella, le affidi l'incarico, sta già lavorando ad una possibile, eventuale squadra di governo. C'è stato un vertice importante con gli alleati Berlusconi e Salvini. Andremo a vedere un'intervista sul giornale fatta da Augusto Minzolini, proprio a Silvio Berlusconi, e scopriremo insieme che cosa è accaduto proprio in quel vertice. E poi naturalmente anche quanto accade nel PD, perché lo sapete, in vista del congresso, ci sono già le candidature per il nuovo leader. Insomma, sono molte le notizie, andiamo a vederle. Partiamo dal Corriere della Sera. Il titolo d'apertura, raid sui civili, vendetta di Putin, strage a Zaporizia, almeno 17 morti, dovrebbero essere in realtà 12. Ci sono però dei bambini, questa purtroppo è una certezza, ci sono almeno 6 vittime e sono appunto dei minori. E poi lo Zara, il presidente russo, colpire il ponte è stato un atto terroristico. E poi, nell'occhiello, il leader russo convoca il Consiglio di Sicurezza dopo l'attacco in Crimea, cioè quello del ponte. E poi ieri c'è stata una telefonata tra Biden, il presidente degli Stati Uniti, e il cancelliente tedesco Scholz. Conseguenze gravi se userà il nucleare, a proposito naturalmente delle intenzioni che potrebbero esserci da parte della Russia. Naturalmente tutti noi lo scongiuriamo. E poi Milena Gabanelli nel data room però si interessa anche della Cina, perché la Cina rallenta ma ha già scelto, incoronerà Xi Jinping, che è l'attuale presidente, per la terza volta. Andiamo a vedere sotto invece il titolo sulla politica, sulla Meloni, Giorgia Meloni, ieri è intervenuta all'incontro all'assemblea di Vox, il partito di destra spagnolo, con un videomessaggio letto in spagnolo. Allora, l'Europa è l'invito al coraggio, non siamo dei mostri, questo è quello che ha detto proprio in questo videomessaggio. Andiamo a vedere un'altra prima pagina, la Repubblica. Il titolo, i signori della guerra, chi sono i signori della guerra? Lo andiamo a leggere insieme. Uno, quello a sinistra, Evgeni Prigozhin, ed è il fondatore della brigata Wagner, questo esercito parallelo di fatto non riconosciuto ufficialmente. E a destra c'è il leader ceceno, invece Kadirov. La scalata di Prigozhin, capo di Wagner, Kadirov al Kremlino, e stromettere il ministro Shoigu, impadronersi del conflitto. Putin, Kiev, dietro l'attacco al ponte, atto di terrorismo che ha coinvolto stranieri. Le FSB, che sono praticamente gli eredi del KGB, servizi segreti russi, dice 100 raid ucraini sul suolo russo. E poi Germania, l'ombra di Mosca sul blocco ferroviario, sabotaggio di Stato. Forse ricorderete che per alcune ore si è fermato proprio il traffico ferroviario in Germania e secondo gli inquirenti, anzi non escludono sostanzialmente, non hanno la certezza, ma non escludono che sia stata opera dei servizi russi o comunque degli eker russi. E poi per la politica, inno e patrioti, Meloni riabbraccia la destra di Vox, e ancora nuovo governo, l'economia è un buco nero. Andiamo a vedere la stampa. Non siamo mostri, ma patrioti europei, sono le parole pronunciate da Giorgia Meloni, Tesoro, Pressing su Panetta, ipotesi Giorgetti, si comincia già a parlare di Toto Ministri, Premier in pector e collegata con Vox, come vi dicevo. Però la stampa ospita anche un'intervista a due pagine, a pagine 6 e 7, al Presidente di Confindustria Bonomi. Allora che cosa dice in questa anticipazione? Servono 50 miliardi, intervenga l'Europa, oppure un nuovo debito. E poi nella foto invece sono quel che resta di alcuni palazzi colpiti nell'attacco sulla città di Saporizia, quindi siamo in Ucraina, la vendetta di Putin, gli USA, i servizi di Kiev dietro l'attacco a Kersh, Kersh era il ponte proprio di Kersh, quello della Crimea. I russi rispondono massacrando civili a Saporizia. Questo è quanto scrive nella prima pagina la stampa. E allora, sono le 7 e 6 minuti, diamo la linea alla regia per qualche istante e ci vediamo subito dopo. Vi aspettiamo. 7 e 12 minuti, ben ritrovati. La prima pagina che ho preso è quella del messaggero. Andiamo a leggere insieme il titolo d'apertura e sulla politica. Meloni all'Unione Europea serve coraggio. Gas, la leader di Fratelli d'Italia, scuote l'Europa. Sia solidale con tutti, non soccomba davanti a pochi. Allo studio un decreto per prorogare aiuti per 10 miliardi contro i rincari delle bollette. E a proposito di economia, super bonus all'80% per la prima casa, per le seconde abitazioni si passa invece al 65%. La notizia sul ponte, su Saporizia. Crimea, Putin si vendica su Saporizia. Missili sui condomini. Morti 13 civili, anzi sui condomini scusate, ma in questo caso c'erano appunto dei civili all'interno delle abitazioni. E poi quest'altra notizia di cronaca. Crolle il cavalcavia, siamo nel Novarese, inghiottita un'auto, viva per miracole. Sotto shock, ma se l'è cavata una donna che transitava a bordo della sua auto. Il sole 24 ore, shock energetico. Da Parma a Lucca i rincari e frenano la corsa all'export. E poi, a proposito di bonus casa, l'abbiamo appena letto, cessioni ai supplementari. Vediamo un'altra prima pagina, il Fatto Quotidiano. Zeleschi e spie fuori controllo. Chi sta usando le nostre armi? Escalation usa gli Stati Uniti sempre più irritati dopo il delitto d'Ugina e la bomba al ponte. Poi in alto invece abbiamo la notizia di Giorgia Meloni, l'intervento che appunto ha fatto per Vox, per il partito conservatore spagnolo. Meloni ritrova la Vox, gioca sulle parole, naturalmente il Fatto Quotidiano, UE Modello Polonia, Conte e Vigileremo. E poi però ricordiamoci anche di quanto sta avvenendo ormai da molti giorni in Iran, nelle piazze dell'Iran che vogliono liberare lo Stato dai fantasmi. Ancora un'altra pagina, scusate, un'altra notizia a proposito di gas, allarme gas, gli inverni a rischio diventano tre. Vediamo il foglio. Meno balle sull'energia, quindi si torna a parlare di gas e di petrolio. L'Italia di fronte all'imperativo di frenare il caro bollette e al bazooka tedesco. Perché conviene battersi per un meccanismo di redistribuzione a livello europeo abbandonando alcune battaglie sbagliate come quella per il price cap, cioè il tetto al prezzo del gas. Un'indagine e qualche idea per il governo che verrà. Il domani sceglie invece tutta un'altra notizia, tutta un'altra apertura. La Chiesa compra il silenzio delle vittime. Questo sacerdote, questo rappresentante della Chiesa è il presidente della conferenza episcopale, Matteo Zuppi. E allora, la notizia, un vescovo offre 25 mila euro pagati a rate per risarcire un ragazzo abusato, ma solo in cambio di riservatezza. Quanti casi ci sono così? Zuppi e la CEI non lo dicono. Andiamo a vedere l'altra prima pagina, è quella di Libero. Demma, roccate al potere, sabotaggio in corso, l'olobrigia, Fratelli Italia, pioggia di nome, il PD sta occupando le posizioni di controllo dello Stato e un attacco alla democrazia. C'è quest'altra notizia, poi andremo a leggerla magari nel dettaglio. Vedete il ministro degli esteri Di Maio. Allora, il premier di Tirana dice, anzi rivela, contrabbandò vaccini con l'Albania. Andremo a vedere poi esattamente di cosa si tratta. Il giornale, c'è un'intervista del direttore Augusto Minzolini a Silvio Berlusconi. Torno al Senato senza rivalse, sui nomi nessun veto tra alleati. Il leader azzurro dell'Europa considera Forza Italia il garante della coalizione. Giorgia Meloni ha la determinazione per guidare il Paese. Questa è un'anticipazione dell'intervista. La verità, la solidarietà dell'Unione non esiste, le nuove regole dell'Unione Europea sull'energia, un altro regalo alla Germania. E poi nella foto, vedete, l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, la stampa usa in colpa Kiev per l'attacco al ponte. Trump negoziati subito. Su questo non possiamo che condividere le parole di Trump. E poi il resto del Carlino, mai più come seba, il re del travolto a Firenze, il lavoro con poche tutele, aumentano le morti bianche, Mattarella è inaccettabile. Vi ricordo che ieri è stata proprio la giornata dedicata proprio al lavoro, con dei dati incredibili. Pensate, tre morti al giorno ci sono provocati proprio dal lavoro. L'Europa secondo Giorgia, questo è il titolo scelto dal tempo. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, Milan il 10 è lui, Diaz de Keteler il regista, è Pioli. Stavo parlando naturalmente dell'allenatore dei rossoneri. Allora, andiamo a vedere nelle pagine interne. Partiamo dal Corriere della Sera a pagina tre, vedete Giorgia Meloni, un momento questo del video messaggio che è inviato appunto a questa assemblea del partito conservatore spagnolo Vox. La leader accelera, squadra entro mercoledì, Salvini, noi senza pretese, la Lega non punta i piedi. Però questa pagina ci serve anche un po' a capire quali saranno le tappe imminenti della nuova legislatura e di quello che sarà il governo dopo le consultazioni convocate appunto dal Capo dello Stato. Allora, oggi è prevista la registrazione dei parlamentari, mentre giovedì si terrà la prima seduta delle nuove Camere e partirà l'elezione dei Presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, naturalmente. Poi, sempre dal 15 ottobre, quindi in realtà due giorni dopo, potrebbero partire le consultazioni del Capo dello Stato con tutti i partiti e dal 18 Mattarella appunto il Capo dello Stato potrebbe affidare un incarico esplorativo o pieno. Naturalmente questa è un po' di, come dire, la liturgia di questa fase politica, delle fasi politiche. La lista dei ministri e il giuramento, se il premere incaricato scioglie la riserva perché appunto si accetta ma con riserva, presenta la lista dei ministri al Colle, al Presidente e al Capo dello Stato dove poi il nuovo governo giura il 20 ottobre, ci ricorda però il Corriere della Sera, c'è il Consiglio Europeo a Bruxelles e la legge di bilancio va presentata alle Camere. Quindi capite che i tempi sono molto stretti. Qui a proposito di Totonomine ci sono alcuni nomi già di cui si parla da tempo, c'è Antonio Tagliani, Giulia Buongiorno, poi Gaetano Micciche, Erika Stefani e poi Carlo Nordio per vari dicasteri dagli esteri alla giustizia. Andiamo oltre rapidamente. E allora c'è stato un incontro tra gli alleati, tra Lameloni, tra Berlusconi e Salvini ad Alcore, il titolo del Corriere della Sera già lascia intuire. L'irritazione di Berlusconi, Giorgia arrogante con noi, l'alt a Ronzulli, un esponente di Forza Italia che spacca Forza Italia per l'ex premier, cioè Berlusconi, non è accettabile un sia a Tagliani e un no alla fedelissima che sarebbe appunto Renzulli. E allora, a proposito di alleati nel centrodestra, come vi dicevo prima, c'è un'intervista alle pagine 2 e 3 del giornale a Silvio Berlusconi che l'ha fatta il direttore Minzolini, Augusto Minzolini. E allora, ritorno al Senato dopo i torti subiti ma senza rivalse tra partiti alleati non possono esserci veti verso qualcuno. Questo è il titolo dell'intervista. Vi segnalo queste ultime due domande, queste due ultime risposte a proposito proprio dell'incontro che c'è stato. Dice, quali sono le richieste di Forza Italia sui ministeri e sui vertici delle Camere? In quali ruoli potrebbe contribuire di più al successo della coalizione? Non esistono liste della spesa di Forza Italia, dice Berlusconi. Forza Italia mette a disposizione i suoi migliori parlamentari da impiegare al meglio del quadro di un assetto complessivo della squadra di governo. Posso dire solo due cose. La prima è che a differenza di quanto si legge non esistono, non possono esistere fra partiti alleati veti o pregiudiziali verso qualcuno. La seconda è che non procederemo con il manuale Cencelli, quello che viene evocato per distribuire gli incarichi. E allora, sulla Repubblica a pagina 9 c'è proprio una Toto Ministri con le possibili candidature. Eccole, potete vedere nel dettaglio se vi appassiona sapere quali possono essere le ipotesi. Torniamo però sul Corriere della Sera. C'è un'intervista a Landini, segretario della Cigiella a proposito di governo. Dice, esito chiaro dalle urne, non abbiamo pregiudizi. E allora, io mi devo fermare, sono le 7.20.30. c'è Paolo Sottocorona. Ciao Paolo, buongiorno, ti do subito la linea, però dicendoti anche, ho sentito allerta gialla per alcune regioni. Tranquillizzaci. A te Paolo, buongiorno. Grazie Fabio. Beh, tranquillizzarvi non lo so, perché se guardate l'immagine di partenza, tutto il settore occidentale ha piogge e temporali, quindi c'è una instabilità piuttosto forte. Vediamo cosa è previsto per tutta la giornata. Allora, direi che sicuramente le zone del sud vanno, diciamo, nel corso della giornata a mantenere una situazione piuttosto critica. Forse anche un po' più che gialla, direi, come livello di allarme. Nord, centro, zone, zone tirreniche, fenomeni ancora sono segnalati, ma sembrano ridursi un poco. Ora, io direi che almeno nella prima parte della giornata, nord-ovest, le zone del centro, specie il versante tirrenico, starei un po' attento. Insomma, come al solito, la prudenza, tutte le avvertenze che vi vengono sempre fatte, tenetene conto. La tendenza per domani è in effetti a un'attenuazione di questo maltempo al nord, anche se sulla Liguria resta la traccia di temporali e anche lì sappiamo che è una zona molto fragile, qualche temporale sulle zone interne del centro e anche al sud non subito, ma in giornata si attenua questa instabilità, questo maltempo. Quindi direi che sono le prossime 24-36 ore quelle un pochino più critiche. Arriviamo alla giornata di mercoledì in cui i fenomeni sono, i fenomeni intensi sono isolati, le zone alpine al nord, zone interne del centro, qualcosa in Sicilia, ma si avvicinano di nuovo zone di forte instabilità, di forti temporali alla Sardegna. Quindi insomma la situazione è nell'insieme, tranquilla sicuramente non lo è. Vediamo per chiudere le minime di questa mattina, non particolarmente basse, perché l'aria comunque arriva da ovest come massa d'aria, quindi fredda non lo è, e lo stato dei mari che appunto a ovest si presentano generalmente mossi, quelli orientali e lo Ionio si mantengono calmi, ma sicuramente il moto ondoso nelle prossime ore aumenterà anche lì. Se volete ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale con Fabio Angelicchio. A più tardi. a 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 Grazie a tutti.